Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Furto alla Centendrius, asportati un'ottantina di capi e il secondo a distanza di pochi giorni Raccolta firme per riportare la statua dell'atleta vittorioso in Italia Iniziativa però che può spaccare il fronte dei sostenitori Revitalizzare il centro del commercio nella città di Fanno Il Movimento 5 Stelle presenta interrogazione al sindaco Seri Parcheggio Foro Boario, fondo stradale dissestato e pericoloso L'appello dei residenti per un intervento urgente Presentato il progetto del Natale più di Fanno tra conferme e novità Questa sera in diretta su Fanno TV a Primo Cittadino il sindaco Massimo Seri La più cordiale buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia La cronaca, la nota azienda di abbigliamento fanese di alta fascia Centendrius S.P.A. La cui sede si trova nella zona industriale di Bellocchi È stata nuovamente violata dai ladri a distanza di una settimana Questa volta il bottino è più corposo E sono oltre un'ottantina i capi di abbigliamento asportati dal magazzino Salvo Inventario Analitico contro alcune decine della volta scorsa Secondo le prime risultanze il furto sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi Attorno all'1.30 ad opera di due individui a volto coperto Che ci sono introdotti nel magazzino forzando un accesso Con una smerigliatrice angolare smontando un pannello nell'entrata secondaria Probabile utilizzo questa volta di un furgone e di un mezzo pesante Per trasportare tutta l'area furtiva Su questo, come sul precedente furto, stanno procedendo alle indagini militari Del nucleo investigativo della compagnia Carabinieri di Fano Che ci stanno avvalendo anche dei presidi di videosorveglianza Sia interna all'azienda che quelli posizionati nei punti strategici della città Per ricostruire gli spostamenti della banda, autrice del furto E risalire alla identità dei componenti Ebbene, ora parliamo di una polemica che sta montando in queste ore Legata alla statua dello scultore Lisippo Perché una cordata di esperti si sta mobilitando per riportare in Italia Proprio la statua dell'atleta vittorioso È stato confiscato dalla Suprema Corte Italiana al Getty Museum Attraverso una raccolta firme su di un sito internet Che tra l'altro è già stato riportato sulla stampa nazionale E tra i promotori di questa iniziativa c'è proprio colui che ha seguito Tutto l'iter giudiziario della vicenda L'avvocato fanese Tristanno Tornini Legale dell'associazione Cento Città Creando però, cosa abbastanza inconsueta Un po' di malumore Soprattutto tra i componenti del primo comitato Come Dino Zacchilli Che ha commentato a mezzo stampa Che questa iniziativa però potrebbe spaccare il fronte Di quanti vorrebbero riportare in Italia E a Fano la statua dell'Isippo E allora sentiamo proprio le parole Dell'avvocato Tristanno Tornini Io sono contento che abbia destato clamore Sono contento che se ne parli Sono contento che ci sia una nuova movimentazione Questa è un'iniziativa completamente a politica A margine È un'iniziativa di un sito In cui si richiede al Ghetti di restituire la statua E in questo sito ci sono le ragioni Sia da un punto di vista culturale Sia dal punto di vista giuridico Per cui la statua debba assolutamente rientrare in Italia E quindi mi sembra che sia un'azione da porre in essere In modo più assoluto E quindi ho aderito molto favorevolmente a questo Non ha niente a che vedere con tutto quello che riguarda L'attribuzione della Stata ad una città E speriamo che sia la città di Fano Questo colpisce altre cose Una moral sceso nei confronti del Ghetti Museum E spero che la maggior parte delle persone Tutte quelle che vengono a contatto con questo sito Che entrano in contatto con questo sito Che abbiano notizia di questo sito Possano sottoscrivere questa sottoscrizione Per far rientrare la statua in Italia E speriamo poi che la statua da Fano Lei da buon fanese ha sempre oltre che seguito professionalmente Tutto l'iter che conosce molto bene Anche un po' emotivamente questa vicenda Quindi lei vuole scuotere un po' le coscienze Non si tratta di scuotere le coscienze Si tratta di mettersi in moto Per far sì che la città possa essere pronta Il giorno in cui ritornerà la statua Perché la statua ritornerà in Italia Di questo ne abbiamo la certezza Di essere pronta E quindi di attivarsi maggiormente Perché questo comitato era stato creato Aveva prodotto delle idee Aveva prodotto delle... Poi si è arenato in vista delle elezioni E ancora non è ripartito Io con Zachilli che non ho nulla di... Personalmente contro anzi Ho visto che c'è stata questa polemica Non è assolutamente alcuna polemica E a mio avviso può essere preso come pretesto Per portare avanti e spingere con maggior forza E maggior vigore Tutto quello che si può fare Per attribuire la statua alla città Cosa a cui tengo tantissimo Da cittadino fanese Il primo passo comunque è chiedere al Ghetti Che si ridere alla statua Ma certamente perché se la statua non dovesse tornare in Italia È un po' difficile poterla collocare a Fano Quindi assolutamente Questa è un'iniziativa totalmente apolitica di questo sito Volta da un punto di vista culturale e giuridico A spiegare le motivazioni per cui la statua debba ritornare in Italia Quindi invito tutti a collegarsi al sito Lisippoinitalia.it E a sottoscrivere per il rientro dell'Isippo in Italia E dandoci da fare Speriamo nella città di Fano Assolutamente Bene, e adesso parliamo di commercio Commercio che secondo i 5 Stelle Langue un po', anzi Ci sono gli spettri di alcune chiusure Nel centro storico Di alcune attività E tutto questo ha lasciato un po' L'allarme nel Movimento 5 Stelle di Fano Il quale ha intenzione, ha chiesto Proprio un'interrogazione urgente Al primo cittadino Proprio su questo argomento Sul che cosa si vuol fare Per rivitalizzare il commercio Nella città di Fano Abbiamo appena saputo Che a ridosso del Natale Chiuderanno altri saracineschi Nel nostro centro storico Il che è una grave sconfitta Per tutti noi E vorremmo veramente sapere Che intenzioni ha questa amministrazione Per rilanciare non solo il centro storico Che è il cuore pulsante Della nostra città Ma anche la parte commerciale Del lungomare E inoltre come biglietto da visita Abbiamo tanti capannoni dismessi Anche nella nostra zona artigianale Ed industriale Questo comincia ad essere Un problema serio Quindi noi abbiamo protocollato Un'interpellanza Proprio per essere da stimolo A questa amministrazione Nel nostro programma elettorale Per le scorse amministrative Avevamo individuato Tutta una serie di incentivi fiscali Per le nuove attività I nuovi negozi di prossimità Eccetera Abbiamo visto che Pesaro E' andato anche lui In questa direzione Ampliando gli incentivi Che erano già previsti Quindi vorremmo sapere Nel nostro sindaco Che intenzioni ha Ecco quali sono secondo voi Le leve primarie Da muovere subito Per invertire questa tendenza Innanzitutto bisogna fare in modo Che si aprano nuove attività E cercare di far mantenere Quelle già esistenti naturalmente Quindi secondo noi E' da prevedere Degli alleggerimenti Per quanto riguarda la Tari A tutti Visto che Aset Ha degli utili molto alti E potrebbero servire Quanto meno Per abbassare questa tariffa E poi servirebbe anche Rendere gratuiti I parcheggi Di prossimità al centro storico Per gli acquirenti Insomma dei negozi del centro Ma anche della zona mare Insomma delle zone sensibili E poi naturalmente Lavorare per abbassare Le tariffe Che ne so Per il suolo pubblico O la Tasi Per tutte le nuove attività Quindi anche per quelle imprenditoriali Siete all'interno del nostro comune Servirebbe anche un'azione di attrattiva Non solo il mercato interno Anche il flusso esterno importante Assolutamente Però eventi di qualità Non tanti piccoli eventi Di basso richiamo E poi soprattutto essere propositivi Da un punto di vista della comunicazione Cioè il centro storico adesso Ha alcuni negozi Che fanno fronte alla comunicazione E alla promozione Della propria attività in solitaria Mentre abbiamo dei grandi centri commerciali Che invece fanno questa comunicazione Tutti insieme Abbattendo i costi Quindi sarebbe da pensare E ripensare anche questo Oltre al fatto che Adesso ci aspettiamo nel nuovo PRG Veramente un'azione di contenimento Di questi centri di grande distribuzione Perché insieme all'e-commerce Sono le cause Per il fatto che i nostri commercianti Che hanno un ruolo sociale Anche molto molto importante Si sentono strozzati Ed ora vi parliamo delle vostre segnalazioni Come sempre Tra l'altro poi In coda di ogni telegiornale E anche in ogni rassegna stampa Vi diamo il numero Al quale potete telefonare Oppure chiamare Per sentire Qualche cosa Che riguarda la città E che ci volete segnalare Ebbene Una di queste segnalazioni Ci arriva proprio dal foro Boario Il grande parcheggio A ridosso dell'ospedale Dove un residente Che da tempo Osserva gli andamenti Di questo sito Ne denuncia però Il degrado E purtroppo Lo stato fatiscente Del fondo stradale Sentite Il parcheggio del foro Boario Meriterebbe una profonda riqualificazione Oltre che come parcheggio stesso Anche come polmone Dell'intero quartiere E sia Per la sicurezza Di chi lo frequenta Visto e considerato Anche che giornalmente Ci sono attività commerciali Ambulanti Con un via vai Di persone Anche anziane Con borse Della spesa E quant'altro Una frequentatissima farmacia Oltre a tutta la mole di gente Che per via dell'ospedale Viene anche da fuori città E quindi per il giusto decoro Della città di Fano Lo chiede a gran voce E da tempo Ma senza ricevere Dalla macchina amministrativa Comunale Grandi riscontri Sergio Schiaroli Attento e profondo Conoscitore della città Sarebbe bene Mantenerlo al meglio D'altra parte Una parte È stata Già Asfaltata E tutta la zona intorno È asfaltata Da parecchi mesi Quindi sarebbe necessario Intervenire anche qui Perché anche per chi Va a piedi O in bicicletta C'è qualche rischio Ma diciamo Anche dal punto di vista Del decoro Anche riqualificarla In totale Non sarebbe male Sì Questa è un po' un'idea Che io ho lanciato da tempo Teniamo presente Che la sera qui Parcheggiano Vengono Fanno i turni Soprattutto giovani Infermiere Dell'ospedale E quindi un minimo Di sicurezza in più Con qualche punto luce Superiore Sarebbe Sarebbe bene È una richiesta tra l'altro Che viene da lontano Poi si potrebbe anche attrezzare Per esempio Con dei cestini Grosse e profonde buche Poi rendono In caso di pioggia Difficoltoso Il parcheggiare all'asciutto Piazzole Che per ottimizzare Gli spazi Andrebbero segnate Orizzontalmente Ma l'ideale Per rendere Questo posto Ottimale Ma qui siamo Veramente All'optimus Creare anche Delle zone Dedicate ai pedoni Con spazi E panchine Sfruttabili Nella bella stagione Come zone Di aggregazione Per l'intero quartiere Per esempio In estate O in primavera La sera Qui le macchine Non parcheggiano A parte Chi va in ospedale O diciamo I familiari Dei malati E quindi Potrebbe diventare Anche un punto qualificato Di ritrovo Per il centro cittadino Ma questo Diciamo È un desiderio Oltre Le problematiche attuali C'è un problema Di parcheggio Perché effettivamente A volte c'è un po' di confusione Per il fatto che mancano Le strisce E almeno Sarebbe da asfaltare Tutto il piazzale Ma almeno il circuito Qui perché avete visto voi Dalle vostre riprese Che è pieno Insomma Di buco Ed è molto rovinato L'appello è che qualcuno Si prenda carico Di questo problema Ma sì Io ho fatto qualche sollecito Dico la verità Non ho avuto risposte E quindi È bene Farsi carico Perché voglio dire Ripeto Questo è l'ingresso Alla città Da chi proviene Dall'autostrada Dalla superstrada Bene Allora andiamo A Pesaro Precemente a Borgo Santa Maria Dove è stato inaugurato Sabato il nuovo Presidio di Polizia Locale Il servizio Di Francesco Salvago Un investimento Del comune Di circa 90 mila euro È il costo Del nuovo presidio Della Polizia Locale A Borgo Santa Maria Nel Pesarese La sede nasce Dalla ristrutturazione Di parte Dell'ex scuola materna Di Via della Resistenza E copre più territori Dell'Unione Tra cui anche Il comune di Tavuglia Questo Come unione dei comuni È il terzo presidio Che inauguriamo Quindi Dimostra Una grande attenzione Che come Polizia Locale Come amministrazione Di questo territorio Dedichiamo A quelle che Possono essere chiamate Le circoscrizioni Di questa Grande Di questa grande comunità Quindi Il nostro obiettivo È di incrementare La percezione Di sicurezza Da parte dei cittadini E di collaborare Con le altre forze Di polizia Nel rendere più sicuro E fruibile Un territorio Per il sindaco La presenza Del presidio Della Polizia Locale Rafforza la sicurezza In una zona Con presenza industriale Flussi di traffico Ma va a consolidare Anche il lavoro Che il comune Porta avanti Sulla viabilità La dimostrazione Che l'Unione dei Comuni Funziona La polizia municipale È stata la prima funzione Che abbiamo messo insieme Ed è una funzione Che non ha dei confini Ben stabiliti Credo che abbia sbagliato Il comune di Montelabato Uscire dall'Unione Tant'è che questo presidio Era Osteria Nuova Oggi l'abbiamo a Borgo Santa Maria In una sede ristrutturata Perché questo territorio È un territorio baricentrico Ci sono tante persone Che ci vivono Tante persone Che ci lavorano Che ci passano Nelle strade principali Quindi era importante Un presidio Di polizia locale Evidenza inoltre Anche l'importante Investimento Sui sistemi Di videosorveglianza Strumenti utili Ribadisce il primo cittadino Alle forze dell'ordine Sul lato Della prevenzione Della repressione Poi annunciate Delle novità Che riguardano La frazione Tra cui la gara Di appalto Che partirà breve Per il campo Da calcio a otto E i lavori Di manutenzione Sulla caserma Dei carabinieri Entro l'estate Del 2020 La regione Marche Si doterà Di un elisoccorso Operante H24 Sia di giorno Che di notte Attrezzando Le piazzole Già esistenti Al volo notturno E attrezzandone Altre Tra queste Che verranno adibite Anche al volo notturno C'è anche quella Appunto Dell'aeroporto Di Fano Sentiamo Il consigliere Talè Un'importante variazione Perché da due giorni È stata giudicata La gara Una giudicazione provvisoria Perché le gare Funzionano così Diciamo che La definitiva Dovrebbe arrivare Fra 40 giorni Ecco Avremo naturalmente Questo volo notturno Anche Un volo H24 Per adeguare Tutte le nostre strutture Proprio da gara Sono previsti Sei mesi Quindi È importante dire al cittadino Che non avremo Da domani Il servizio H24 Da domani Avremo il servizio Che abbiamo avuto Negli anni scorsi E quindi Questo servizio Che va dall'alba Al tramonto Fra sei mesi Invece Partirà questo H24 Nelle 27 piste Che già abbiamo Dislocate nel territorio 27 piste Di cui alcune Già pronte Perché Abbiamo La pista di Pesaro La pista di Pergola Quella di Belforte Quella di Cingoli Quella di Castel Raimonde Di Serra dei Conti Che sono già idonee Al volo notturno E Fano Visto che siamo A Fano TV Fano È prevista Nel 2020 Quindi con i fondi Quindi con i fondi di bilancio Regionali 2020 Renderemo Così Efficace anche Dal punto di vista Del volo notturno Anche La pista di atterraggio Di Fano Debo aggiungere Che quindi Delle 27 piste Che già abbiamo 7 nuove Ne faremo nel cratere 5 nuove Sono previste Dal nuovo PSR Saranno Localizzate Nella provincia Di Pesaro A Carpegna E Urbino Che attualmente Mancano Quindi sempre Questo un lavoro Che si farà Nel 2020 Con questa riforma Un pochino Diciamo Abbiamo smembrato Gli ospedali Soprattutto quelli Dell'entroterra Ecco Con l'elisoccorso H24 Noi portiamo La nostra eccellenza In tutto il territorio Quindi H24 Cioè L'emergenza Urgenza Con l'elisoccorso H24 Noi siamo in grado Sia di giorno Che di notte Di portare tutti Agli ospedali riuniti Di Torrette Che sono veramente Un'eccellenza nazionale L'azienda che si è giudicata L'appalto Che se lo giudicherà In modo definitivo Metterà anche altri mezzi Altri velifoli Quindi un potenziamento Anche proprio Della macchina strutturale Sì Noi attualmente Intanto l'azienda È un'azienda londinese Che ha sede a Milano E sta già gestendo Parte del Nord Italia Soprattutto il Piemonte E parte del Lazio Quindi è che è un'azienda Già testata E sì Ci saranno dei potenziamenti Noi comunque Attualmente abbiamo Due elicotteri Icoro 1 Icoro 2 Uno a Dancone E uno a Fabriano E cambiamo radicalmente Tono di notizia Parliamo del Natale Perché stiamo per entrare Proprio nel vivo Delle iniziative Legate al Natale E presto partiranno E apriranno i battendi Anche i più gettonati Mercatini natalizi Questa mattina È stata presentata Tutto il palinsesto L'ossatura Degli eventi Che riguardano La città di Fano Tra conferme E novità Si accendono I riflettori Sul Natale di Fano Le cose che hanno funzionato Lo scorso anno Sono state potenziate Come la pista di ghiaccio In Piazza Veduti Che passerà Da una superficie Di 300 A cui è una Di 400 metri quadri O Magic Sense Le maestose sculture Di sabbia Che l'anno scorso Fecero segnare Il record Di ben 4.000 Oltre visitatori Nei giorni di apertura E anche L'albero naturale In piazza E il gioco di luci Per il quale Si stanno ultimando Gli ultimi dettagli O le 20 casette Del mercatino di Natale Che anche Per questa edizione Rimane in Piazza 20 Settembre Che dovrà condividere Con il mercato Tradizionale E la tanto amata Via dedicata Ai bambini Via Garibaldi Dove campeggerà L'albero artistico Di Del Signore Ma non mancano Le novità Come una nuova Scenografia Per l'illuminazione Delle strade Sempre ad opera Dell'architetto Seri Che abbandonati I globi Quest'anno Ha puntato Su un progetto Di alcune vele Di luci E a diverse altezze Con grosse stelle Illuminate Che in prospettiva Creeranno Un effetto Scenografico Riempitivo E di grande impatto Ma forse la novità Delle novità Sta nel tanto desiderato Trenino di Natale Che quest'anno Ci sarà Grazie alla collaborazione Con il Brico Center E che fungerà Da raccordo Tra cinque zone Parcheggio Ed il centro storico Oltre che Nel tragitto Della durata Di 30 minuti Da panoramica Dei più suggestivi Punti della città Come la Rocca Malatistiana La Porta Augustea E il Bastione Del Nuti Abbiamo deciso Di farci Di fare anche A tutti i fanesi Un regalo Un regalo particolare Appunto La presenza Di questo trenino Che collegherà Tutti i principali parcheggi Da appunto Le zone esterne Della città Verso il centro cittadino Come in passato Braccio operativo Del tutto La Proloco di Fano Naturalmente Abbiamo visto Che la città Cresce No? Io lo deduco Questo Dalle telefonate Naturalmente Il primo anno Che il giorno Dell'inaugurazione Abbiamo tre pullman Prenotati Forse sono pochi Per quello Che è la città Di Fano Però già È un segnale Positivo Poi tra le novità Annoverate Pensate Dalla nuova giunta Due richiami Ad altrettante Manifestazioni Identitarie Della città Di Fano Passaggi Festival E il Carnevale Un Natale Che anche quest'anno Segna un budget Corposo Quantificabile Attorno ai 160.000 euro Metà dei quali Finanziati dal comune Chi viene a Fano Deve vedere Insomma Di cosa è capace La città Cosa esprime la città Ebbene Presto ci sarà Però anche Un'ulteriore Conferenza stampa Dove verranno Illustrati Maggiormente I dettagli E tutto quello Che sarà Naturalmente Il palinsesto Vero e proprio Di questo mese Intero Di eventi Legati al Natale Ed ora andiamo A Cartoceto Dove ieri Si è conclusa La mostra Mercato Dell'olio Di oliva E a seguire Questa chiusura C'era per noi Filippo Pucci Conclusione positiva Per Cartoceto Dove il festival La mostra Mercato Dell'olio E dell'oliva Che da 43 edizioni Valorizza L'oro verde Marchigiano Dopo il taglio Del nastro Sotto la pioggia Di domenica scorsa Ieri 10 novembre Una giornata Dallo stampo Autunnale Ma accompagnata Da uno splendido Sole Ha fatto riversare Per tutto il paese Tanti visitatori Provenienti dai paesi Limitrofi E anche da fuori Provincia L'evento È iniziato Con l'apertura Dei stand Di produttori Locali Delle osterie E con le visite Guidate ai frantoi Ma le vere Protagoniste Sono state Le centinaia Di Harley Davidson Arrivati in piazza Garivaldi Nelle prime ore Del pomeriggio Invece Spettacoli musicali Con la esplosiva Merching Band Di Eusebio Martinelli E con l'originale Esibizione di lirica Curata da Madame Opera La giornata Poi è stata Arricchita Da cooking show Progetti Video fotografici Intrattenimento E per concludere Al teatro del trionfo Il concerto Dal titolo Canzoni in controluce Di Cristina Donà Con Saverio Lanzoni E la partecipazione Straordinaria Della corale Nostra Signora Di Fatima Nonostante L'avvio Bagnato Che comunque Ci ha regalato Devo dire Tante soddisfazioni Al di là delle condizioni Meteorologiche Che oggi Oggi invece Una giornata Di novembre Davvero Strepitosa Tantissima L'affluenza Dalle prime ore Di questa mattina Che si sono Riversate Poi Nelle casette Dei produttori Ad acquistare Davvero Tanti prodotti buoni I primi Tra tutti Ovviamente L'olio Dop Cartoceto L'eccellenza Del nostro territorio Ma non solo L'eccellenza Della reale Della Dop Cartoceto Che ricordo sempre Ricomprende anche Parte del territorio Del comune di Fano Parte del territorio Del comune Di Colli al Metauro E anche Il territorio Di Monbaroccio L'evento poi Si concluderà Sabato 16 novembre Con il Gran Galà Del Gusto A Cartoceto Bene Ed ora Lo sport Come ogni lunedì A cura di Matteo Del Vecchio E' notte fonda Per l'alma Che subisce a Modena La quinta sconfitta Consecutiva Restando tristemente All'ultimo posto Della classifica A condannare il Fano Ancora una volta E' una dormita Della difesa Al novantesimo Che macchia Una prestazione Tutto sommato Positiva Che fa uscire Granata dal Braglia Con tante pacche Sulle spalle Ma zero punti Subito avanti I padroni di casa Al settimo Con Spagnoli Che in mezza rovesciata Fa secco Viscovo Capitalizzando al massimo L'assist di Varrutti L'alma risponde subito E al ventiquattresimo L'ex di turno Barbuti Ristabilisce la parità Approfittando Di un errore Colossale Della difesa emiliana L'equilibrio Sostanziale Va avanti Per tutto il resto Del match Con azioni da ambo le parti E i portieri Chiamati spesso in causa Fino all'ultimo giro Di lancette Quando lo spiovente Della difesa Di Perna Trova disattente La difesa ospite Consentendo al neo entrato Rossetti Di segnare il gol vittoria Alma Che esce dal campo Tra gli applausi Ma con tanto amare in bocca E al di là della prestazione Bisogna fare i conti Con i numeri Che vedono i ragazzi Di Fontana All'ultimo posto Con il secondo Peggior attacco E la peggior difesa E domenica Al mancini Arriva il Piacenza Squadra Non proprio ideale Sconfitta anche per Etabeta Nel campionato nazionale Di serie B Di calcio A5 Con la squadra fanese Che dopo tre vittorie consecutive Stecca in casa Contro la corazzata Mestre Prima punteggio pieno Dopo sei giornate Alcuni errori della difesa Un po' di sfortuna E la bravura degli avversari Incanalano la partita Verso il Veneto Già nel primo tempo Chiuso avanti dagli ospiti Per 2 a 0 Risultato Arrotondato poi Nella ripresa Al palatrave Finisce 6 a 1 Per la capolista Con Etabeta Che comunque Resta in piena zona playoff Ed è un'altra squadra veneta Ad avere la meglio Su una fanese Nel volley Con la Giban Virtus Che a Porto Viro Perde al Tybrek La sfida valida Per la quarta giornata Del campionato di serie A3 Rammarico per la truppa Di Andrera Dici Avanti prima per 1 a 0 E poi per 2 a 1 E quindi Ad un passo dalla vittoria Che invece va A pannaggio dei padroni di casa Apparsi più civici Nella parte finale del match Il 15 a 13 Con cui si chiude il quinto set Consegna due punti ai Veneti E uno alla Virtus Che muove comunque La classifica E si conferma squadra In grado di poter dire la sua Nella terza serie nazionale Arriva invece La prima vittoria Per la serie B2 femminile Dell'Apav Griffata Bccifano Pedini Che tra le mura amiche Si impone per 3 a 0 Sulla Corplast Corridonia Le ragazze di Coach Galli Dopo aver condotto Un primo set esemplare Negli altri due parziali Hanno combattuto su ogni palla Per non concedere Il rientro delle avversarie E conquistare tre punti Che la portano per il momento Fuori dalle zone calde Della classifica Cambiamo decisamente sport E parliamo ora Della grande festa Che si è tenuta ieri Alla bocciofila San Cristoforo di Fano Che in occasione Del cinquantesimo anniversario Dalla fondazione Ha organizzato Una gara individuale elite Vale a dire Una gara riservata Ai migliori giocatori d'Italia Che sono scesi in campo Per contendersi appunto Il trofeo del cinquantenario A spuntarla È stata il riminese Marco Moretti Che in finale Ha avuto la meglio Per 10 a 8 Ha avuto su Massimo Quercetti Della bocciofila Bar Cardelli Autore a sua volta Di un'impresa in semifinale Quando aveva sconfitto Il campione europeo Gianluca Manuelli Fanese In forza alla bocciofila Rubierese di Reggio Emilia Moretti invece Si era imposto Sul Sauro Petrelli Di Montesanto Macerata A conferma Dell'alto livello Della manifestazione La presenza Fano Dei massimi esponenti Della FIB nazionale Quali il presidente Giuno De Santis E il vice Moreno Rosati Che si è fermato Poi alle premiazioni Insieme a tante altre autorità Tra cui il sindaco Emoseri Che insieme agli assessori Caterina Delbianco E Dimitri Tinti Ha omaggiato Il presidente fanese Paolo Marchionni Con una targa Per i 50 anni di attività Fatti non solo di sport Ma anche di tante iniziative Legate ai giovani E ai diversamente abili Chiudiamo con una notizia Di atletica Che arriva da Ravenna Dove nell'ambito Della ventunesima edizione Della maratona Ravenna città d'arte Si sono svolti I campionati italiani Medaglia d'oro Nella categoria SF50 Per Marzia Ottaviani Dell'atletica Avis Fano Pesaro Giunta al traguardo In tre ore Sette minuti E venticinque secondi Confermandosi di fatto Una figlia d'arte Essendo infatti La figlia di Giuseppe Il celebre centenario Dell'atletica italiana Bene E questo era tutto Per questa sera Concludiamo con lo sport Però io vi ricordo Che a seguire Dopo il nostro telegiornale Ci sarà Primo cittadino Insieme a Simona Zonghetti Qui nei nostri studi Ci sarà Il sindaco Di Fano Massimo Seri E come sempre Avete a disposizione Due numeri di telefono Per Porre quesiti E domande Al primo cittadino Per intervenire Anche in diretta Se vorrete 0721861433 Oppure per i vostri messaggi O domande Tramite sms O whatsapp Al 3384968250 Bene Io mi fermo qui Grazie L'informazione Torna domani mattina Alle 7 puntualmente Con occhio ai giornali Vi lascio Nelle mani Di Simona Zonghetti E di Primo cittadino Arrivederci E di Primo cittadino